Altro giro, altra sconfitta. Stavolta, però, fa davvero male. Perché il Milan stava giocando bene, molto meglio della Roma, e aveva sfiorato più volte il vantaggio, Alisson miracoloso su Bonucci, prima di subire il gol di Zecco, con deviazione decisiva. Insomma, una beffa. Nel giro di pochi minuti, i giallorossi trovano il redoppio con Florenzi. Un 1-2 tremendo che taglia definitivamente le gambe al Milan, che rimane anche in 10 per l'espulsione di Calanoglu, doppio giallo. Saranno giorni difficili per Montella e i suoi.